Il Teramo fa mezzo passo avanti dopo la sconfitta contro la Ternana. Contro la Virtus Francavilla finisce 1-1 al termine di una gara in cui i bianco-rossi concedono troppo nel primo tempo e non riescono poi a rimediare abbastanza nella ripresa. Nel Teramo c'è la sorpresa di Francesco dal primo minuto per sostituire idealmente lo squalificato Ilari, con Costa Ferreira che vince invece il suo ballottaggio con Bungo e con Bombaggi e Pinzauti che tornano titolari. Nella Virtus Francavilla assenza la sminut di Nunzella con Sparandeo che va a farne le veci come tutta fascia sinistra. La formazione di casa imita il Teramo ed inizia in maniera aggressiva. Dopo neanche un minuto Castorani riceve per un tiro che è comunque facile preda di Lewandowski. Il portiere polacco fa invece quel che può due minuti più tardi. Di Cosmo si inserisce a difesa del Teramo scoperta, conclude con l'estremo del diavolo che respinge ma che nulla può sulla ribattuta di Castorani che porta avanti la Virtus Francavilla. I pugliesi giocano un buon primo tempo e sfiorano più volte il raddoppio. All'ottavo ci prova Vasquez ricevendo da Giannotti con girata di testa comoda per Lewandowski. Il primo scopo del Teramo arriva al ventiquattresimo con un tentativo debole di Pinzauti che si spegne a lato non di molto. Al ventottesimo è Bombaggi a provarci da calcio di punizione ma il destro a giro finisce fuori. Al trentaduesimo da una palla persa Vasquez semina la difesa biancorossa. Si porta in aria ma il mancino non è troppo angolato e l'estremo biancorosso ringrazia. Un minuto Putadi è Perez a provarci dagli sviluppi di una punizione con tentativo deviato in angolo. Dopo gli scampati pericoli il Teramo torna in avanti. Costa Ferreira trova prima Crispino al trentaquattresimo a respingere il tiro ma poi fa l'assist per il gol del pari di Di Francesco al secondo centro stagionale dopo la rete nella gara d'esordio contro il Palermo. Torna in campo l'Assic ad inizio ripresa che prende il posto in retroguardia di Piacentini facendo scalare Diachite a difensore centrale. C'è equilibrio nella prima fase del secondo tempo con la Virtus che non rinuncia a pressare ma che rischia dopo il quarto d'ora con una doppia occasione per il Teramo. Come nella prima frazione Costa Ferreira mette in mezzo per Di Francesco che sulla deviazione trova però pronto Crispino. L'estremo fa poi gli straordinari anche sulla successiva ribattuta in porta di Lassic negando il gol al terzino. Il Teramo lamenta anche un presunto tocco di mano in aria ma il dirittore di gara vede invece un fallo assegnando un calcio di punizione per i padroni di casa. La Virtus prova la reazione con un diagonale di Perez servito sulla corsa con palla che finisce a lato. Per il Teramo poco dopo è Arrigoni a provarci da fuori aria con un tiro che trova forse una deviazione provvidenziale in calcio d'angolo. Dal punto di vista delle occasioni la gara si chiude sostanzialmente qui con il Diavolo che tenta fino alla fine a trovare la via della vittoria ma inutilmente. I Biancorossi cedono dunque due punti a Ternal e Bari occupando adesso la terza piazza in classifica. Domenica prossima per la formazione di Paci ritorno al Bonollis per ospitare la Vibonese.